Solida in difesa, pragmatica in avanti, così si spiega il blitz della Fidelisandra sull'ostico campo della Paganese. Finisce infatti 0-1 la sfida del Torre, col rilancio in ottica salvezza che si compie nel migliore dei modi. Formazioni, moduli speculari, entrambe in campo col 3-5-2, per Ginestra in avanti ci sono Bubas e Alberti, Campani con gli annone e guadagni. Primo tempo equilibrato, ma l'approccio fedeliciano è subito incoraggiante. Al sesto ci prova Bubas dalla distanza, palla alta. Al 35esimo e dal 40esimo è ancora pericoloso Firenze. Prima la sua punizione viene deviata in corner, poi il suo tentativo di rovesciata si spegne sul fondo. Ma l'occasione più ghiotta è di Bubas al 42esimo. L'ex Vibonese fallisce clamorosamente a tu per tu con Baiocco. Nella ripresa l'avvio è sprint e dal 49esimo è Gaeta, ex di turno a colpire. Nunzella sulla sinistra salta due avversari e mette il pallone nel cuore dell'aria. Poi è il perfetto inserimento del numero 24 andriese a fare il resto. 0-1 ed ottima azione. Vano è poco convinto al forcing Campano. All'89esimo Vitiello non punge da pochi passi. Dopo campo basso, secondo blitz esterno per l'Andria, che saluta all'ultimo posto e si porta a quota 12 punti, a meno 2 dalla zona salvezza.